Vi sono state un po' di polemiche mediatiche, come spesso accade nella realtà nostrana, relativamente al fatto che io abbia espresso la mia idea che l'unione di centro meglio si collocherebbe in un'alleanza con il Popolo della Libertà e qualcuno ha detto ma Podestà vuole allargare una maggioranza, vuole offrire posti in giunta all'Udc, si sta distaccando dalla Lega. Allora niente di più falso, noi abbiamo un impegno sacro preso con gli elettori Lega Nord, Popolo della Libertà e portiamo avanti insieme il programma che abbiamo presentato agli elettori e che gli elettori hanno premiato con il loro voto. Torno a ripetere che con l'Udc noi condividiamo tantissimi valori che sono quelli del popolarismo europeo, per cui è strano trovare l'Udc in una posizione a volte di pieno affiancamento alla sinistra. Il mio accordo del Parlamento europeo è che il gruppo, il Partito Popolare europeo è esattamente contrapposto al gruppo della sinistra, per cui mi sono sempre chiesto perché di questa posizione anche a livello locale posso al limite capire alcune posizioni diverse per quanto riguarda la situazione nazionale, ma nella realtà del territorio di Milano, nella realtà della Lombardia veramente non ha senso. Con l'Udc insieme alla Lega abbiamo amministrato Forza Italia, Alleanza Nazionale, tantissime amministrazioni, da quella del Comune di Milano, alla Regione Lombardia, a tantissime altre, per tanti anni allora non si capisce perché oggi vi sia una situazione diversa. Il mio è un invito a ragionare e lavorare insieme, ma senza mai tradire quel patto che abbiamo preso con gli elettori, Popolo e Libertà e Lega Nord insieme e questo patto manterremo.